Nuovo anno e nuovi prodotti Apple. Sinceramente me li aspettavo a fine dell'anno scorso, magari durante il mese di novembre, però comunque adesso abbiamo nuovi MacBook, nuovi Mac Mini e nuovi processori molto potenti per i professionisti che fanno un lavoro molto intenso con le proprie macchine. Prima di iniziare vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale perché supporta tantissimo il mio lavoro. Ma iniziamo proprio con il nuovo MacBook da 14 e da 16 pollici che non sono cambiati dal punto di vista estetico e in alcune loro caratteristiche che erano di altissimo livello, però internamente cambia proprio quel processore che va a far muovere il tutto. E parliamo quindi dei nuovi processori, o meglio dei SoC Apple Silicon M2 Pro ed M2 Max, quindi sono quelli successivi rispetto a quelli che avevamo sul precedente Pro 14, M1 Pro ed M1 Max. Due nuovi SoC che si vanno a rifare e portano alcune caratteristiche che erano già state incluse con il precedente Apple Silicon M2 che avevamo visto lo scorso anno con il MacBook Air da 13 pollici. Ma questi, essendo dei processori pensati per i professionisti, hanno molta più potenza a disposizione. E vediamo di fatti come l'M2 Pro ha una CPU che arriva fino a 12 core, la GPU quest'anno è 19 core, ovviamente nella configurazione massima perché si può andare a configurare, e poi 32 giga di memoria unificata. La parte interessante però la vediamo sull'M2 Max, che è quello che ha subito un incremento delle prestazioni forse ancora più intenso rispetto all'M2 Pro, perché la CPU è sempre da 12 core ma la GPU arriva fino a 38 core, quindi una GPU molto più prestante rispetto allo scorso anno e soprattutto molto più potente rispetto a quella che troviamo sull'M2 Pro. Quest'anno cambia soprattutto la parte della memoria unificata, che quest'anno si può spingere in configurazione massima fino a 96 gigabyte, che sono davvero tantissimi perché si tratta comunque di un portatile e soprattutto questa memoria unificata viene condivisa tra appunto la GPU e anche come memoria, tra virgolette, RAM, che sfruttiamo per tenere i programmi aperti in background. Apple poi ci dà anche alcuni esempi di quanto è davvero più potente questo nuovo processore. Naturalmente all'interno di questa classifica mettono ancora il vecchio processore Intel i Core i7, quindi neanche il modello base, quindi neanche l'i5 che avevamo sui precedenti MacBook Pro, però comunque ci fa capire davvero quanto questi nuovi processori Apple Silicon sono molto più potenti. Naturalmente c'è un incremento di prestazione anche rispetto all'M1 Max e all'M1 Pro, non è così tanto significativo quanto rispetto a quelli Intel, però comunque sono dei processori nuovi con più core a disposizione e quindi è normale che siano più potenti rispetto al passato. Su questi nuovi MacBook ci sono stati dei miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria, o meglio per l'autonomia che si riesce a tirare fuori da questi nuovi processori perché sono aumentati i core, sono quindi aumentate le prestazioni, ma in realtà Apple ha migliorato appunto il processore, il SOC per migliorare i consumi, per utilizzare al massimo. Non è cambiato tantissimo, però comunque su entrambi i modelli, quindi sul Pro 14 ma anche sul Pro 16, abbiamo rispetto alla precedente generazione un'ora in più. Già erano dei campioni di autonomia questi MacBook con Apple Silicon, adesso riusciamo a fare un'ora in più ad esempio durante la riproduzione video, il che non è male. Rimane invariato il display su entrambi i modelli, sul Pro 14 e sul Pro 16, ma diciamo che non è una cosa che avrei cambiato, sicuramente si può sempre migliorare, sempre escono nuove tecnologie, però comunque parliamo di un display XDR con un picco di luminosità di 1600 nits e con una risoluzione elevatissima e soprattutto con i promotion a 120 Hz. Sempre parlando di cose che sono rimaste uguali, abbiamo sempre la stessa webcam, una 1080p, un Full HD, migliorato rispetto ai precedenti MacBook che sicuramente ora riesce a offrire una risoluzione maggiore e non cambiano anche le porte. Qua diciamo che non è propriamente vero, perché le porte fisicamente come le vediamo sono identiche. Abbiamo sempre il MagSafe 3 per la ricarica, due porte Thunderbolt 4 sul lato sinistro, più una sul lato destro, il jack audio per le cuffie o per delle casse, lo slot per la lettura delle CD card full size e poi la porta HDMI. Qui però quest'anno cambia l'Hademy. Qualcuno si era un po' lamentato con la precedente generazione, non so se sia Apple che sta appunto ascoltando i propri utenti, però comunque è stata migliorata la porta HDMI con il nuovo standard e di fatti ora tramite questa porta si può reggere fino a una risoluzione di 8K, cosa che prima non potevamo fare. Con l'8K stiamo parlando di una risoluzione molto elevata che magari non vi può interessare, però questo vuol dire che magari con le risoluzioni inferiori, quindi con il 4K, aumenta la frequenza di aggiornamento con la quale riesce a uscire l'immagine video. Quindi miglioramenti anche da questo punto di vista. Altra cosa che è stata migliorata è poi il Wi-Fi, che adesso sfrutta e supporta il nuovo standard Wi-Fi 6E, quindi maggiore velocità di trasferimento. Insomma, questo era tutto un recap sulle principali novità di questi MacBook Pro 14 e Pro 16 e l'ultima cosa che vi voglio far vedere sono appunto i prezzi che sono aumentati rispetto alla scorsa generazione, sono aumentati praticamente su tutti i prodotti Apple, meglio, quelli venduti in Europa perché svalutazione dell'euro, situazione dei mercati attuali, insomma, il prezzo è aumentato su tutti i prodotti, però sinceramente pensavo anche peggio perché il precedente Pro 14 partiva da un prezzo base di 2349 euro mentre quest'anno si parte da 2499 euro. 150 euro, non sono pochi, però comunque, come vi dicevo, pensavo peggio. L'altra cosa che non mi aspettavo è che avessero diminuito il prezzo del nuovo Mac Mini perché è stato aggiornato anche il Mac Mini, sono stati portati i nuovi processori con M2 ed M2 Pro, sono cambiate anche qui alcune caratteristiche interne, adesso le vediamo, però di tutto con un prezzo più basso. Quindi secondo me il prodotto più interessante di questo rilascio da parte di Apple è proprio questo nuovo vecchio Mac Mini perché dal punto di vista estetico, lo vedete anche da queste immagini, non cambia, rimane uguale al passato, però sono stati portati i nuovi Apple Silicon M2 ed M2 Pro quindi un bel cambio rispetto alla precedente generazione perché questa volta viene portato anche il modello Pro dell'Apple Silicon M2 mentre sulla precedente generazione c'era soltanto l'Apple Silicon M1 quindi la versione base non quella dedicata ai professionisti e questo sicuramente la rende una macchina molto interessante per tutte quelle persone che non vogliono semplicemente avvicinarsi al mondo Apple quindi con il processore, il nuovo sistema operativo macOS ma proprio hanno anche necessità di una macchina molto potente con un prezzo contenuto qua dove possono abbinare lo schermo che vogliono e la tastiera che vogliono perché qua abbiamo l'M2 Pro con sempre 12 core per quanto riguarda la CPU, GPU da 19 core e fino a 32 giga di memoria unificata quindi un ottimo processore e quest'anno di fatti Apple va a eliminare dal suo listino il vecchio Mac Mini con il processore Intel e sono tutti finalmente con Apple Silicon e quindi questo nuovo Mac Mini con M2 Pro va a sostituire quel precedente Mac Mini che era considerato un po' più Pro un po' più potente con il precedente Intel Core i7 un cambio sicuramente molto importante perché questa macchina non è più dedicata soltanto a quelle persone che fanno delle operazioni basilari ma proprio si può fare davvero di tutto anche un lavoro molto professionale cambia un pochettino la configurazione delle porte tra questi due Mac Mini perché come vedete Apple ci mostra che sul modello con Apple Silicon M2 abbiamo soltanto due porte Thunderbolt 4 mentre sull'M2 Pro ecco che se ne aggiungono altre due questo lo sappiamo già dai precedenti MacBook perché sappiamo ad esempio che sul MacBook Air con Apple Silicon M2 abbiamo soltanto due porte Thunderbolt mentre sul Pro 14 c'è sempre la possibilità di avere più porte Type-C Thunderbolt 4 a disposizione e quindi è stata una bella scelta quella di aver differenziato queste due macchine anche perché le persone lo andranno ad utilizzare in maniera differente l'altra cosa che cambia poi è la possibilità di reggere degli schermi con una risoluzione maggiore e soprattutto anche su questo Mac Mini abbiamo il nuovo standard Wi-Fi 6e quindi con quella maggiore velocità di trasferimento come vi dicevo parliamo di prezzi perché questa secondo me è la cosa più interessante perché il modello base si abbassa di prezzo rispetto alla precedente generazione e parte da 729 euro per quel modello con Apple Silicon M2 che comunque si tratta di un SOC molto potente se si vuole il M2 Pro quindi quello più potente ecco che si sale molto di prezzo si parte da 1579 euro però comunque non hanno lo stesso non si rivolgono allo stesso utente è un utente un po' più professionista c'è più memoria a disposizione c'è più giga per quanto riguarda la memoria unificata insomma un prodotto molto molto più potente comunque questo era tutto per questo rilascio di MacBook Pro 14, Pro 16, Mac Mini e soprattutto i nuovi Apple Silicon M2 M2 Pro? M2 Pro... no M2 Max confondono sempre questi nomi comunque questo era tutto fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo rilascio da parte di Apple un po' inusuale perché è stato tramite semplicemente un comunicato stampa però comunque molto interessante noi ci vediamo al prossimo video come sempre un mi piace e iscrivetevi al canale perché aiuta tantissimo il mio lavoro ciao a tutti